Il francese Caput Il francese belga Mathieu, presto raggiunti da Fiorenzo Magni. Scott sa come evitare i sovbalzi del pavé. Eccoli tre. Mathieu, che è staccato a ripreso Magni in 54 e Caput. La pedalata di Fiorenzo è quella dell'atleta superiore. Scott è rientrato in gruppo. Sono in 17 contro 1. Ma qui risalta la freschezza della maglia rosa. Un volatone iniziato da lontano per evitare sorprese. Tutti battuti. La sorpresa della folla si muta in ammirazione. Gli occhi di Fiorenzo brillano di gioia e di commozione. Altro che fiore hai meritato oggi. Gli ci vorrebbe un monumento.